Buonasera, sono Raffaele D'Alterio, istruttore della categoria 06. Aspettative di questa stagione, siccome il gruppo 06 è un bel gruppo, tecnicamente validi, però non cambia lo slogan del Giuliano Calcio, prima divertirsi e poi se vengono pure le vittorie è un in più. Ma lo slogan deve essere far divertire per prima i bambini e trasmetterci molta disciplina, essere umili al massimo.